Rasce finale dei partiti per definire le candidature al Parlamento. Mancano solo tre giorni alla scadenza della presentazione delle liste, ma i giochi non sono chiusi e le sorprese restano in agguato fino all'ultimo minuto. Al momento gli unici candidati certi sono Salvatore Colagiovanni e l'ex senatore Alfredo D'Ambrosio, sul plurinominale della lista civica popolare di Beatrice Lorenzin, il vice sindaco di Vinchiaturo Ernesto Lavecchia e Francesco Fiardi, sul proporzionale della lista insieme, composto da socialisti verdi e civici, tutti collegati all'uninominale del PD di Camera e Senato. Certe anche le candidature di Danilo Leva, Gianmaria Palmieri, Michele Durante, Sergio Sorella e Oreste Campopiano per liberi e uguali. Per quanto riguarda gli altri partiti, le posizioni sono ancora indefinite in particolare nel PD, la segretaria Michela Fanelli insiste per un posto sul collegio unico del Senato insieme a Vittorino Facciolla, Laura Venitelli e Carlo Veneziale invece o Maria Teresa D'Achille rispettivamente ai due collegi della Camera, mentre sfuma la candidatura del giornalista Domenico Iannaccone. Paolo Frattura invece ha rigettato la proposta avanzata da molti dirigenti locali del PD per una sua candidatura al Parlamento, ma ha dato la sua disponibilità solo per il vertice della Regione. Tale rifiuto, non gradito da molti dirigenti locali del PD, ha creato diffusi mal di pancia con inevitabili conseguenze sulla scelta del candidato presidente della Regione qualora il partito dovesse ottenere un risultato negativo alle politiche. In sostanza, la ricandidatura del governatore diventa a rischio anche per i suoi amici del PD. Intanto, Antonio Di Pietro, di fatto escluso in malo modo dalla candidatura parlamentare proprio dai democratici ai quali aveva offerto la sua disponibilità, punta diritto al vertice della Regione ed è pronto a sfidare Paolo Frattura con una propria lista e con un simbolo che raffigura il Molise. Nel centro-destra, infine, continua il tentativo di ricompattare la coalizione, ma le candidature verranno definite solo domenica. Comunque restano in campo Nunzio Luciano, Michele Iorio, Anna Elsa Tartaglione, Rosario De Matteis e Mario Petracupa, mentre Michele Marone si candiderà al Parlamento con Energie per l'Italia che al momento corre da sola.